andiamo avanti con lo studio degli animali totem con l'ottava carta dell'oracolo ovvero la fenice la fenice rappresenta la rinascita e ci insegna che il cambiamento è vita poiché tutto può essere trasformato niente per sempre possiamo cercare di entrare in contatto con questo spirito animale quando sentiamo il bisogno di rinnovarci o di buttarci il passato alle spalle in modo da poterci così aprire al cambiamento per entrare in contatto con lo spirito della fenice dobbiamo raccoglierci in meditazione e visualizzarci avvolti da un fuoco dorato un fuoco che brucia in realtà soltanto ciò che è negativo soltanto ciò che appesantisce la nostra anima brucia tutto questo e lo trasforma in luce e quindi brucia anche tutte le nostre memorie del passato trasformandole così in luce compresa ogni paura o credenza limitante contempliamo quindi il nostro corpo che lentamente viene trasformato anch'esso in pura luce se ci pensiamo questo è il simbolo stesso dello spirito della fenice e mentre percepiamo il nostro essere il nostro corpo che diventa luce ripetiamo dentro di noi l'intento di reinventarci e di rinascere più forti e consapevoli termina visualizzando una splendida fenice di fronte a te fatta della tua stessa luce assorbi quindi in te il potere della fenice quando ti senti pronto a rinascere apri gli occhi e ritorna alla vita portando la fenice nel cuore vediamo adesso come interpretare la carta della fenice quando utilizziamo l'oracolo per ricevere un messaggio del giorno e quindi per ricevere una guida solitamente questo lo si fa ad inizio giornata in questo caso se pescando una carta dovesse uscire proprio la carta della fenice il messaggio è questo è giunto il momento di un cambiamento radicale i vecchi schemi sono diventati statici e sterili distruggi ciò che non ti serve e segui la tua ispirazione per attuare il cambiamento di cui hai bisogno accogli il nuovo con entusiasmo liberandoti da ogni paura un nuovo mondo mondo ti attende un mondo dove tutto ciò che ti limita verrà ridotto in cenere affinché questa magia si possa compiere è necessario un atto di coraggio se invece utilizziamo l'oracolo degli animali totem per ricevere una divinazione e quindi per capire un po' quali saranno gli eventi futuri in questo caso dobbiamo sapere che la carta ha due tipi di interpretazione un'interpretazione che corrisponde alla carta quando compare dritta e una interpretazione che corrisponde alla carta quando compare capovolta vediamole insieme quando in una divinazione la carta della fenice compare dritta rappresenta trasformazione metamorfosi e cambiamento la fenice ci sta dicendo che tutto sta per cambiare in modo rapido e inaspettato ogni certezza crollerà per lasciare spazio a una nuova realtà questa carta invita a non fare resistenza al cambiamento ma di accoglierlo con fede in modo da poterne trarre il meglio quando invece la fenice compare capovolta simboleggia distruzione perdita e fine è probabile che un evento inaspettato metterà il consultante duramente alla prova facendolo sentire solo e indifeso questa carta può anche indicare un crollo nervoso o uno scatto di rabbia o quasi pazzia se vogliamo ed è una carta che ci invita a non lasciarci sopraffare dagli eventi e di osservarli con un sano distacco in questo caso è bene ricordare il messaggio che porta la fenice ovvero che nulla muore ma che tutto si trasforma per cui è importante avere fede nel cambiamento in modo da poter ricominciare un nuovo ciclo bene ragazzi anche per oggi è tutto se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere con un like se avete domande scrivete pure nei commenti e noi ci vediamo alla prossima lezione